Presidente Ardizi, fiume e mare di Pescara, oggi se ne parla in Confcommercio, qual è la vostra ricetta? La nostra ricetta è che bisogna fare i lavori, perché che la costa abbia avuto dei problemi, che i fiumi abbiano avuto dei problemi, la percezione l'hanno avuta anche i cittadini, il disagio, il mare inquinato, il mare non inquinato, il divieto di balneazione, non c'è il divieto di balneazione, una confusione di ruoli. Noi vogliamo invece che prima ci siano gli enti adatti, le persone adatti che dicano e sappiano dire quello che devono fare, ma ancora di più che ci siano enti che adottino provvedimenti, che abbiano risorse e finanziamenti per curare il malato, perché il nostro mare, i nostri fiumi sono malati. Quindi noi vogliamo sì che l'anno prossimo, che la nostra acqua da scarsa diventa mediocre, che da mediocre è buona, da buona ottima, come sono gli altri mari che ci sono vicino, dalla Puglia alle Marche. Presidente, nonostante le problematiche del mare a Pescara, ma anche in Abruzzo, per quanto riguarda il turismo balneare, la stagione si è chiusa con il segno positivo? Eh sì, perché noi, voglio dire, è via che c'è il grande stellone, ci mancherebbe pure. Gli italiani si sono mossi in Italia, non sono andati all'estero. C'è stato un turismo che comunque ha gradito, c'è stata una stagione favorevole, ancora oggi sono a 30 gradi. Sì, ma questo non significa perché abbiamo fatto promozione, oppure perché abbiamo fatto miglioramenti delle strutture e delle infrastrutture. No, sono rimaste quelle. Una struttura importante è il mare, una struttura importante sono i depuratori, e quelli sono rimasti a palo, non sono fatto nulla.